salve buongiorno a tutti oggi è l'11 no oggi è il 12 ieri ha fatto l'ingresso giove nel seno della riete quindi stasera l'estrazione dell'otto probabilmente si vedranno questi numeri magari sparsi un po qua un po la oppure faranno gli allineamenti 9 il 90 l'88 89 l'1 il 10 perché quando appunto dato che l'ingresso è successo ieri se succedeva oggi era era più facile vedere il 90 ma dal momento che è successo ieri è probabile stasera vedere il 90 o l'1 10 o l'88 89 come a c'è anche lotto anche lotto anche da tenere in considerazione comunque sono otto i numeri invito tutti voi al programma che vi ho offerto che è assolutamente gratis se fate la vostra iscrizione su rumbo io calcolerò le vostre date di nascita che saranno dei numeri ovviamente personalizzati se lo volete se no state dove siete l'iscrizione gratis e anche il calcolo è gratis dall'altra parte stamattina ho messo delle previsioni ho parlato un po di cose però stamattina avevo un po di problemi con il video che vedo che fa un po di capricci quindi ho fatto un video diciamo che non è proprio il massimo il massimo del dell'informazione comunque io vi do l'appuntamento questa sera all'estrazione dell'otto grazie a tutti e ciao ciao Grazie a tutti.